eccole qua ragazzi allora dopo aver visto le videocamere di sorveglianza per esterno a o su ho potuto combinare anche due videocamere per interno in modo da avere un unico sistema per video sorvegliare tutta la casa allora una l'abbiamo già installata e vi posso assicurare che è veramente semplice come per le videocamere d'esterno e qui in questa prima parte andiamo a vedere il contenuto della scatola e qualche caratteristica tecnica prima di vedere l'installazione e le conclusioni finali allora caratteristica tecnica risoluzione 2k abbiamo sia microfono che autoparlante possibilità di ruotare la videocamera a 360 gradi rilevamento dei movimenti avendo anche la possibilità di ruotare la videocamera di 360 gradi la videocamera insegue anche movimenti umani quindi come per le videocamere esterne anche qui possiamo rilevare e inseguire persone ad esempio abbiamo la modalità privacy abbiamo la possibilità di registrare gli eventi sia su micro sd che sul servizio a pagamento in cloud e abbiamo varie funzioni che poi andremo a vedere nell'applicazione detto questo vi faccio vedere un attimo il contenuto della scatola prima di partire con l'installazione e poi darvi un feedback con tutte le videocamere messe insieme a mio avviso molto interessante vedere un video un sistema di video sovveglianza sia interno che esterno completo all'inizio magari non so perché ma anch'io ho sbagliato comprando magari videocamere di diverse marche e ovviamente sarà banale ma il consiglio di partire subito con tutte videocamere della stessa marca allora qui abbiamo cavetto per alimentare la videocamera con alimentatore abbiamo la staffa in caso dobbiamo fissare a muro la videocamera con le viti manuale delle istruzioni e qui basta qua dentro vedo la videocamera la vediamo velocemente poi partiamo subito con l'installazione visto che diciamo che per il contenuto della scatola è questo allora andiamo già a togliere l'adesivo qua davanti molto carina è fatta molto bene qui sotto vedo già lo slot della micro sd e qua dietro abbiamo il type c per alimentarla tasto reset e altoparlante qui vedo il microfono e niente è il tempo di installarla e provarla e vi riporto un po il feedback che ragazzi partiamo con l'installazione l'ho già configurata una in veramente due minuti allora la cosa buona è che il wifi va sia sul 2.4 che sulla 5 giga quindi non avremo problemi di conflitti detto questo intanto colleghiamo il cavetto dell'alimentazione qua nella parte posteriore intanto lei si accende vedete il led verde allora se la prima volta io ovviamente se l'ho già installata perché ho tutte le videocamere di sorveglianza esterne dobbiamo installare l'applicazione a osu su l'app store e il play store intanto la andiamo ad aprire e vedete qui ho tutte le nostre videocamere installate qui sul tasto in alto a destra clicchiamo sul pulsante più vedete questo clicchiamo su più ora qui avremo diversi metodi allora le altre ad esempio si sono sono state rilevate in modo automatico allora in questo caso o possiamo scansionare il qr code ok nella parte sotto abbiamo il qr code vedete qui allora o possiamo scansionare il qr code allora su questo modello visto che funziona molto più velocemente se noi clicchiamo il pulsante non riesce a trovare il qr code ok clicca qui vedete ci fa selezionare la nostra videocamera in questo caso è la p1 ok se siamo sicuri e abbiamo acceso la nostra videocamera facciamo su aggiungi ora vedete l'ha rilevata da sola non ho cliccato niente è stata rilevata qui dobbiamo avere sotto mano la nostra password del wifi ok facciamo continua allora lui ci chiede se abbiamo effettivamente configurato acceso la nostra telecamera e se vediamo il led verde lampeggiare continuiamo su continua ok luce verde e fra un po dovremo sentire il bip che clicchiamo su continua ok allora vedete qui abbiamo il qr code dovremo semplicemente e inquadrare con la camera avete visto è stato ok avete sentito che va parlato è stato fulminio il riconoscimento ok riuscito ok qui vedete ho sentito il bip mettiamo il check connessione riuscita scusate connessione riuscita e niente continua adesso vediamo se riprende la videocamera perfetto ok allora questa cosa sicuramente non è proprio per fare una verifica per effettuare appunto che la videocamera funziona la videocamera di sovriglianza funziona avvia appena avete finito la configurazione avvia una chiamata a tutta la famiglia se avete più dispositivi collegati è vista stava avviando una videocamera video call una videoconferenza con tutti e ovviamente l'ho tolta e niente clicchiamo su continua e qui avvia la configurazione vedete qui io posso selezionare una stanza vediamo se c'è soggiorno perfetto infatti questa qui la andrò a mettere nel soggiorno scusate perché tra i vari le varie voci quant'altro mi sono nato un po' appinato allora ci chiede di inserire la nostra micro sd che vi ho fatto vedere andrà messa qua sotto avvia la configurazione registrazione 24 ok si voglio che venga registrato e vengono registrati gli eventi sempre sulla memoria locale perfetto poi andremo ad aggiungere anzi aggiungiamo adesso una micro sd dovrei averla anzi no scherzavo anzi sì ce l'ho ok ce l'abbiamo andiamoci a mettere una micro sd così vediamo anche come funziona perfetto l'avevo già messa ok perfetto abbiamo messo anche la nostra micro sd ecco avete sentito anche il bbip schede inserita a resettare il ok facciamo una configurazione nuova vedete adesso gli diamo il reset per il 360 soggiorno arrivato una persona ovviamente adesso appunto sta facendo la sua configurazione ok ragazzi e videocamera configurata è stato veramente veloce allora andiamo a vedere l'anteprima così vediamo un attimo che togliamo l'audio sono fastidioso allora andiamo a vedere l'anteprima vedete qui c'è la videocamera ok adesso io la sto muovendo niente abbiamo configurato il tempo di provarle come funzionano e noi ci vediamo con l'applicazione e le conclusioni finali ok ragazzi ci siamo andiamo a vedere l'applicazione per poi arrivare alle conclusioni finali apriamola io penso che qui è un esempio più che concreto di un sistema di video salvaglianza esterno ed interno vi ricordo che la recensione sulle videocamere per esterno l'abbiamo già fatta allora qui abbiamo una fruibilità molto semplice abbiamo vari tutti gli ambienti li abbiamo rinominati e oggi appunto andiamo a vedere le videocamere per interno allora andiamo ad aprire questa ora vi faccio vedere già lo spostamento della videocamera in viso veloce e fulminio vedete qui inoltre abbiamo anche una panoramica 360 che si permette di posizionare subito la videocamera nel punto giusto senza dover spingere destra sinistra in alto eccetera eccetera e già nella prima schermata abbiamo tante funzioni abbiamo la possibilità di decidere la qualità la possibilità di registrare un video di tagliare un video oppure anche di mettere muto quindi non sentire i rumori circostanti oppure di attivare il microfono e quindi potremo sentire quello che succede nell'ambiente e qui abbiamo la possibilità di effettuare una chiamata rapida con questo tasto abbiamo la possibilità di cambiare voce se andiamo ad attivare il microfono e noi parliamo ok se noi spingiamo questo pulsante possiamo parlare tramite la videocamera attivare velocemente il sensore di movimento nel senso che lei andrà a seguire quello che pensa sia una persona umana comunque l'oggetto che andrà a muoversi nella sua inquadratura con il più possiamo ricalibrare la videocamera e abilitare oppure la modalità di crociera la modalità di crociera la tengo per dopo perché è all'interno delle impostazioni torniamo nelle impostazioni anzi entriamo allora nelle impostazioni possiamo velocemente chiudere la videocamera e attivarla attivare un programma di eventi intervalli ecco la parola giusta intervalli quindi possiamo decidere quando la videocamera è attiva possiamo condividere con i nostri familiari la videocamera oppure con un unico account possiamo gestire tutti i nostri familiari o comunque persone fidate rilevamento del movimento abbiamo diverse opzioni sensibilità molto completa se rilevare solo i movimenti umani oppure tutti i movimenti scegliere l'area di lavoro diciamo che queste sono ormai impostazioni che ho visto su tutte le videocamere di ultima generazione comunque recenti abbiamo la possibilità di ecco questa cosa qui la funzione crociera molto comoda allora se avete avete messo la videocamera in un ambiente molto grande ovviamente se non fate niente lei rimane a puntare solo su un punto a intervalli programmati possiamo decidere se iniziare un percorso glielo andiamo glielo possiamo dire anche noi oppure utilizzare la modalità sua di crociera ovvero un percorso prestabilito e lui andrà a monitorare se ci saranno degli eventi in tutto l'ambiente circostante andando a ruotare il sensore possiamo decidere l'intervallo di quando fare questo questo automatismo torniamo indietro allora avvisi di notizie anche qui possiamo decidere come e quando ci arrivano le notifiche e anche in quale misura diciamo che qui su ogni voce c'è scritto cosa andrà a fare io tenendolo in questo modo di mi sembra che vada bene e i movimenti vengono arrivati le notifiche arrivano adesso non sto proprio approfondire perché questo è un po personale dipende un po da voi registrazione in cloud questa l'anticipo solo perché io ovviamente non ce l'ho registro su micro sd in pratica possiamo acquistare anche un cloud per registrare online eventi e anche h24 registrazione modalità in locale qui possiamo decidere se registrare h24 oppure solo gli eventi io metto h24 tanto abbiamo messo una memoria da 64 giga dovrebbe essere più che sufficiente video audio qui possiamo selezionare la qualità video audio in base alla connessione internet in base ai nostri parametri e quello che pensiamo che sia giusto abbiamo ecco questa cosa qui potrebbe essere comoda e scomoda io l'ho disattivata perché sennò ad ogni evento se si muove o quant'altro se noi abbiamo la chiamata famiglia via cam lei andrà a fare una chiamata tutti i familiari e quando in linea teorica potrebbe esserci un pericolo e vi arriverà una chiamata tipo messenger rispondiamo e lei ci fa vedere subito cosa sta succedendo all'interno della stanza luce di stato acceso di solito la tengo spenta possiamo decidere se si vede il led sulla videocamera possiamo utilizzare amazon alex e google home e configurarla con questi due sistemi informazioni del dispositivo qui abbiamo tutte le info del dispositivo con lo spazio disponibile qui l'abbiamo quasi riempita e informazioni orarie vabbè qui possiamo decidere il nostro adesso mettiamo 24 ore e possiamo vedere l'aggiornamento firmware l'avvio rapido ecco questa cosa qui se andate installare la videocamera al contrario magari su un muro eccetera eccetera girata al contrario possiamo ovviamente girare anche la il senso di rotazione ok diciamo che dovrebbe esserci tutto possiamo riconfigurare wifi e riavviare il dispositivo e appunto rimuoverlo queste sono tutte le configurazioni allora nel tempo di utilizzo della videocamera di sorveglianza devo dire che come qualità ci siamo qui usciamo un attimo riportiamo un attimo qui che voglio farvi vedere a tutto schermo io direi che come qualità ci siamo anche delle videocamera per esterno ero molto molto contento devo dire che a mio viso la qualità è ottima e anche al buio si vede molto molto bene con gli infrarossi sono molto soddisfatto per quanto riguarda microfono autoparlante diciamo che per 35 euro se ne comprate una e 30 euro se non di meno se ne comprate due perché vengono vendute anche a coppia assolutamente consigliate perché a questo prezzo diciamo che abbiamo tutto, rotazione, abbiamo qualità, abbiamo sensori di movimento e inoltre abbiamo anche tutte le altre funzioni che ci permettono di avere un controllo o comunque anche un'utilità superiore, ho fatto vedere il cambio voce, alcune cose potrebbero essere più o meno utili, però la base più le cose in più penso che le abbiamo tutte, anche perché ecco una cosa che magari se ci fossero un po' più di alternative perché magari non c'è la videocamera per interno fissa, che magari potrebbe anche costare di meno a non avendo la rotazione, una che mi è piaciuta molto ad esempio è quella con, intanto torno qua perché voglio farvi vedere due cose, una che mi piace molto è quella senza filo perché questa comunque c'è il filo, senza filo con batteria molto piccola, io ne ho una delle Svizz che posso mettere ovunque senza fissare, senza rompere niente, piccola con batteria integrata che dura tantissimo, questa ecco se ne facessero una così anche a o su sarei molto contento e per tutto il resto, per il prezzo che costa, per le funzioni e tutto, assolutamente promossa, mi sento di consigliarla e abbinata a qualche videocamera per esterno e tutto il sistema, devo dire che funzionano molto bene. Ecco, voglio farvi vedere, dalla schermata principale senza entrare possiamo attivare la modalità silenziosa, la modalità privacy, in poche parole la telecamera si chiude e quindi non inquadra niente, magari abbiamo ospite o comunque in un click vogliamo disabilitare la videocamera, possiamo farlo senza dover entrare direttamente e l'avevo fatto vedere anche nella recensione delle videocamere esterne, nella sicurezza intelligente noi abbiamo delle azioni particolari, vedete qui, quando usciamo di casa, io adesso ho impostato che mi arrivano tutte le notifiche, tranne il loro sistema di allarme in pratica suona e si illumina, non l'ho attivato perché comunque ce l'ho già la sirena, mentre per quanto riguarda quando siamo in casa, vedete, qui possiamo disattivare le notifiche in un colpo solo, anzi questa mi mancava, vedete, forse non avevo dato il click giusto, qui disattivo tutte le notifiche e con un click possiamo dire ok, in questo momento siamo a casa, esegui, quindi non ci arriveranno più le notifiche se passiamo davanti alle videocamere, come giusto che sia, quando usciamo di casa andiamo a appunto eseguire la modalità assente e lui andrà ad attivare tutto quello che gli abbiamo detto, abbiamo anche la modalità spegni completamente le camme oppure riaccendile e ovviamente prenderà le ultime impostazioni che gli abbiamo dato, niente ragazzi, questa è una panoramica, devo dire che se state cercando un sistema sia per interno che per esterno, e quello che avete visto sia in questa recensione che nell'altra, vi può essere ritornato utile o anche comodo, io mi ritengo altamente soddisfatto e mi sento anche di consigliare questo marchio e soprattutto questo sistema di videocamere, spero che il video possa essere utile a qualcuna e noi ci vediamo alla prossima, ciao!